Dunque siamo all'articolo 5 e 6 della questione 25. Su questi due articoli io mi pongo un po' nella posizione della teologia negativa. Il fatto di voler disquisire sul fatto che Dio non possa fare se non quello che fa. Oppure all'articolo 6 sembra che Dio non possa fare migliori le cose che fa. Sì, possiamo in qualche modo definire questo argomento, non cadere in errori banali, però io su questi argomenti rimango un po' scettico che, cioè, la mente finita possa in qualche modo proferire dei giudizi sulla mente infinita. supposto appunto che questo Dio esiste, che questo Dio oltre a essere dimostrato dal pensiero filosofico scientifico è confermato dalla rivelazione, arrivare al punto di mettere i puntini sulle I e sulle U fino a questo punto mi pare un po' eccessivo. Rimango così un po' dubbioso, forse un po' io, per carità non mi permetto di dare questo giudizio sul Tommaso che evidentemente era preso da discussioni di carattere teologico universitario. Insomma, accettate anche il sottoscritto così com'è. Tuttavia cerco di, visto che ci siamo proposti proprio il compito di leggerla, questa summa teologica, se mai riusciremo ad arrivare alla fine, di considerare anche l'articolo 5 e l'articolo 6. che non possiamo sempre leggere e commentare gli articoli che ci piacciono. Questo è uno degli errori peggiori che un insegnante potrebbe fare. Già l'insegnante dà poco di sé. L'insegnante, insomma, è un poveretto che non ha certamente scritto la summa teologica. Si appoggia su opere grandi, come può essere la summa, la divina commedia, i promessi sposi, opere varie. E almeno deve avere l'umiltà di un autore leggere tutto. Magari si riesce a conoscere meglio questo autore, a individuare e contestualizzare meglio il periodo storico, in questo caso la ricerca filosofica e teologica. E quindi anche il 5 e il 6 devono essere letti. Qui c'è scritto, sembra che Dio non possa fare se non quello che fa. Già questo, secondo me, è un pseudoproblema. È come se io dicessi, Giovanni non può fare se non quello che fa. Capite che vogliamo spaccare il cappello. Noi abbiamo detto che certo, Dio ha una certa necessità. La sua volontà lega, l'intelletto lega la volontà, la volontà lega la potenza. Anche se l'intelletto, la volontà lega la potenza si trovano sullo stesso piano e sono garantiti dalla verità. Dio, per il fatto che conosce, che vuole, che può, evidentemente non può cambiare sempre idea. Non può cambiare quello che si è proposto. Ciò che si è proposto, l'abbiamo visto nelle questioni precedenti, se l'è proposto dall'inizio dei tempi, ma avrebbe potuto anche percorrere mille altri percorsi, proprio per la sua caratteristica, che è un'essenza infinita, con quindi potenzialità infinite. Comunque, proviamo a vedere, che poi su alcune di queste argomentazioni, Tommaso non è che sia pienamente contrario, ma vedo che si limita a precisare, a chiarire i termini. Dio non può fare quelle cose che non ha previsto. Facciamo una cosa, prima guardiamo il pensiero di Tommaso. Dunque, già nella Rivelazione abbiamo una frase, estrapolata da Matteo 26,53, che chiarisce già subito questo pensiero, dove Cristo dice «Non posso io chiamare in aiuto il Padre mio, il quale mi manderebbe subito più di dodici legioni di angeli?» Domanda retorica. Evidentemente c'è una risposta affermativa. Ora, Gesù non lo chiamò in aiuto, non chiamò in aiuto il Padre, e neppure il Padre ne vio degli angeli per respingere i giudei. Dunque, Dio poteva fare quello che non ha fatto. Lo poteva fare. Però, quel fare, a mio avviso, se ho ben capito, è un fare che è determinato dall'eternità. Dall'eternità che per Dio è l'istante, è l'eterno presente, è ciò che definisce l'opera di Dio e l'intervento di Dio nei secoli e nel tempo. Vediamo cosa dice Tommaso. Alcuni hanno preteso che Dio agisca per necessità di natura. Questa cosa chiaramente non può funzionare. Cos'è la necessità di natura? e la farfalla vola perché ha le ali. Il pipistrello si muove non perché vede, ma attraverso le emissioni di particolari onde. Vedete che ogni cosa in questo mondo ha una necessità, che è una necessità di natura. La rosa vive, sì, ma vive due, tre, quattro giorni, poi sfiorisce, così il cane fa bau bau e il gatto fa miau. Ecco, queste sono le necessità di natura. Vale a dire come dall'operazione delle cose naturali non possono provenire se non quelle cose che ne derivano. Per esempio, dal seme dell'uomo, non può far altro che venire fuori l'uomo, e dal seme dell'olivo l'olivo. Ora, invece, abbiamo già dimostrato che Dio non opera come per necessità di natura, ma che la sua volontà è la causa di tutte le cose. Ma è una volontà che non cambia ad ogni piesso spinto. Per cambiare continuamente, e l'abbiamo detto e confermato nella riflessione precedente, è segno di errore, è segno di ignoranza, è segno di incapacità di valutare e considerare e decidere. Perciò in nessuna maniera l'ordine attuale delle cose proviene a Dio così necessariamente che non ne possano provenire altre. Quindi, è un ordine attuale, ma Dio, nella sua infinita potenzialità, avrebbe potuto benissimo concepire un altro ordine. E se questa cosa, vi ricordate che ne abbiamo già parlato, era abbastanza circoscritta al tempo di Aristotele, perché era considerato quel mondo, quel mondo fatto così, con quei cieli, con quei quattro elementi, eccetera, eccetera, oggi addirittura la scienza mette nel possibile anche più mondi, più realtà, più situazioni che sono alternative alla nostra realtà, alla nostra condizione. Altri, quindi, non possiamo parlare di necessità di natura. Altri, invece, hanno sostenuto che la potenza divina è determinata al corso attuale delle cose a motivo dell'ordine, della sapienza e della giustizia divina, senza le quali Dio non opera. è evidente che tutta la concezione dell'ordine imposta dal sapiente alle sue opere si desume dal fine. Ma la bontà divina è un fine che eccede ogni altra proporzione delle cose create. Quindi, la sapienza divina non è determinata ad un ordine fisso di cose, in modo tale che da essa non possa derivarne un altro. Il progetto divino è puntato su un fine e il fine l'abbiamo riaffermato più volte è il bene è l'amore è la bontà cui sono chiamati tutti gli enti. ora il passaggio intermedio lo strumento per arrivare a questo bene non necessariamente è quello in cui noi viviamo. Vedete, quindi la sapienza divina non è determinata ad un ordine fisso di cose in modo tale che da essa non possa derivarne un altro. Ci può anche essere un altro ordine e oggi contrariamente al tempo di Tommaso chi ci dice che non ci siano altre dimensioni laddove questa dimensione diventa uno strumento ulteriore in quel particolare mondo per realizzare il bene chi mi dice che in un'altra dimensione un Adamo ed Eva siano stati obbedienti e quindi il progetto divino si sia compiuto in quel determinato modo che mi dice che in un'altra dimensione Maria abbia detto di no alla proposta dell'angelo o abbia detto di no a Noè o Abramo Isacco e Giacobbe non si siano dimostrati consapevoli e conformi alla volontà divina o Musè sia caduto in errore insomma ci sono oppure che il popolo eletto sia rimasto fedele alla sua vocazione tutto questo sta nel possibile ma chi mi dice che in altre dimensioni in altre dimensioni si sia verificato un altro ordine in riferimento alle risposte dei singoli componenti ecco allora che in riferimento alle risposte dei singoli componenti abbiamo un percorso differente ma non che con questo Dio cambi in itinere le sue decisioni nella sua prescienza Dio conosce le risposte delle sue creature e quindi già dall'eternità definisce percorsi alternativi oppure una storia completamente differente da quella che conosciamo noi quindi nessun paradiso terrestre nessun Adam e Deva nessun Noè nessuna Maria nessuna azione di redenzione eccetera nessuno ci proibisce di pensare a alternative di questo genere quindi in ogni caso in ogni caso anche se questo fosse l'unico mondo non è escluso che Dio nella sua infinita potenza qui stiamo parlando della sua potenza importante perché non stiamo parlando di volontà o di scienza o prescienza che sia stiamo parlando di potenza la sua potenza non abbia potuto percorrere una strada alternativa ugualmente giusta e perfetta in se stessa nel suo ordine vediamo alcuni commenti tratti sempre dall'opera a cui ho fatto riferimento questa opinione cioè del migliore mondo possibile legata a Raim in modo particolare questo è il migliore mondo possibile Dio non avrebbe potuto se ha messo in atto se ha creato questo mondo è perché è il migliore mondo possibile visto che nella sua sapienza e nella sua bontà e nella sua giustizia non avrebbe potuto portare all'essere un mondo che sia di bontà inferiore ma qualsiasi mondo che Dio avrebbe potuto portare all'essere è perfetto in sé perché è determinato dalla sua potenza è perfetto in sé quindi non si può ipotizzare c'è il mio insegnante di filosofia che insisteva su questa cosa l'ultima volta che l'ho sentito caro caro professore mi sono reso conto che purtroppo stava camminando galoppando verso l'Alzheimer e mi ripeteva di nuovo per telefono questa tiritera Leibniz ci ha detto che questo è il migliore mondo possibile no nella potenza divina tutti i mondi che possono essere concepiti o anche realizzati rimangono i migliori non ce n'è uno migliore dell'altro altrimenti la potenza divina sarebbe in qualche modo deficitaria vediamo il commento questa opinione è stata in un certo senso rinnovata da Mane Branch e da Heinz Wolf i quali insegnarono un determinismo eccolo qui il determinismo psicologico in Dio è pericoloso questo determinismo psicologico perché diventa quasi un determinismo naturale cioè Dio a un certo punto può fare solo quello che è di Dio un po' come abbiamo detto la farfalla può volare l'uomo può generare un uomo e il seme dell'ulivo può generare un ulivo e quindi Dio si troverebbe legato da se stesso e quindi la sua potenza non sarebbe infinita desunta appunto dalla sapienza di Dio il presente ordino di cose sarebbe il solo possibile non già perché ripugni alla divina ogni potenza fanno un altro diverso ma perché non è conveniente alla sua sapienza la quale deve sotto pena di essere ragionevole scegliere il migliore dei mondi possibili quindi la sapienza di Dio diventerebbe una gabbia entro la quale Dio non può più muoversi Dio conosce e invece no le possibilità sono infinite e per ogni possibilità Dio conferirebbe alla sua opera la perfezione una perfezione che poi viene portata alla vera la perfezione alla fine come causa finale e quindi un mondo perfettibile leggiamo ancora il determinismo psicologico dimentica a questo invece l'ho aggiunto io questa riflessione il determinismo psicologico dimentica sembra ancora in una prospettiva aristotelica che l'uomo non è al centro di tutto e che il fine ultimo a cui tutto il creato tende è al di là di ogni prospettiva umana è chiaro che nella prospettiva aristotelica la terra era al centro di tutto l'uomo era al centro di tutto io vedo molto più in sintonia con la visione teologica della Bibbia e della nostra traduzione cattolica la prospettiva galileiana al centro di tutto c'è il sole e al centro di tutto c'è Dio l'uomo non è al centro di tutto voi ricordate che il sole anche con Dante è sempre stato adottato come metafora della presenza divina quindi non è tutto che giri intorno all'uomo l'uomo fa parte di questo ingranaggio perciò vediamo cosa ho scritto al di là di ogni prospettiva umana che oltretutto limita o favorisce il disegno divino attraverso il libero arbitrio il determinismo psicologico lega e sottomette la libertà divina a una sorta di necessità divina simile a quella di natura che escluderebbe proprio quella libertà quella libera volontà che Dio ha garantito agli uomini gli uomini a questo punto sarebbero liberi cioè avrebbero la possibilità del discernimento e quindi del libero arbitrio e Dio non sarebbe più libero della sua perfezione cioè non ci rendiamo conto che come Dio infinito e la sua sapienza è infinita così possono essere infiniti i mondi che Egli potrebbe non ho detto che li produce ma potrebbe produrre o che ha prodotto veramente e tutti questi mondi sono perfetti non ce n'è uno più perfetto dell'altro ecco perché altrimenti Dio sarebbe genererebbe degli effetti perfetti e degli altri meno perfetti anche questo ripugna la perfezione divina è un po' complicata la cosa ma dato che c'è stato chi nella filosofia nella storia della filosofia ha partorito il determinismo psicologico valutiamo che cosa vuol dire determinismo psicologico vuol dire che Dio non è più libero non è più libero la libertà garantita all'uomo viene tolta a Dio ed è un paradosso allora vediamo un po' le argomentazioni Dio non può fare quelle cose che non ha previsto e non ha prestabilito di fare che non abbia prestabilito di fare va bene ma le cose che non ha previsto non mi chiedo come Dio non può aver previsto nella sua lungimiranza nell'eterno presente nella sua prescienza ora non ha previsto e preordinato di fare se non le cose che fa più che previsto e preordinato non ha deciso con la sua volontà libera di fare le cose che fa dunque non può fare se non quello che fa sì perché ha stabilito di scegliere questo percorso è come un alunno che dice io ho varie possibilità di scelta per raggiungere una determinata preparazione e una determinata professione voglio percorrere la strada che mi condurrà ad avere un diploma di geometra è chiaro che durante il percorso che lo può portare a questo diploma non può se vuole raggiungere il diploma cambiare percorso ora il giovane il ragazzo che ha una sapienza limitata che può prendersi anche può prendere anche può cadere in gravi errori può cambiare percorso ma chi ha una sapienza preordinata e vuole quel percorso e lo sceglie liberamente proprio dalla sua essenza è evidente che poi non può cambiare in ogni modo vediamo la risposta articolata di Tommaso che è abbastanza complessa in noi potenza essenza sono distinte dall'intelligenza e dalla volontà e a sua volta l'intelletto è distinto dalla sapienza e la volontà dalla giustezia voi capite che io posso decidere di far qualcosa ma questo qualcosa può essere consapevolmente ingiusto io posso decidere di far qualcosa ma questo qualche cosa può essere verissimo non illuminato dall'intelligenza e quindi commetto evidentemente degli errori c'è comunque questo passaggio necessario che è prima l'intelligenza poi una volta conosciuto ma l'abbiamo detto tante volte bisogna anche da parte dell'uomo per amare Dio prima lo devo conoscere poi dopo averlo conosciuto decido di amarlo e quindi con la volontà di seguire i suoi insegnamenti però per seguire i suoi insegnamenti io devo avere anche la capacità la potenza a volte qualcuno può anche non riuscire ad avere quelle doti necessarie per essere completamente fedele tuttavia il passaggio è intelligenza l'intelligenza determina la volontà la volontà poi attraverso la potenza arriva all'azione vedete tutto questo in Dio l'abbiamo detto tante volte non si distingue qui va avanti e dice questo può esserci in noi qualche cosa che rientra nella nostra potenza e non può rientrare nella volontà giusta o nell'intelletto saggio ho fatto l'esempio prima rientra nella nostra potenza beh certo posso magari con una matita piantarla nell'occhio al mio amico però questa non è certamente una cosa giusta posso con la mia potenza le mie capacità anche ingannare qualcuno con la frode evidentemente non dipende questa potenza non è guidata da un saggio intelletto ma in Dio tutto questo è una sola cosa tuttavia siccome la sua volontà non è determinata necessariamente a questo o a quella cosa niente impedisce che nella potenza di Dio rientri qualche cosa e che non è contenuta entro l'ordine che ha fissato alle stesse cose ecco quindi la potenza di Dio potrebbe benissimo ma lo fa dobbiamo dire che Dio di potenza assoluta può fare cose diverse da quelle che ha previsto e stabilito di fare sotto un profilo di potenza assoluta abbiamo fatto l'esempio del Vangelo il padre mio non potrebbe mandami certo come potenza assoluta l'avrebbe potuto fare però dall'eternità aveva deciso di non mandare nessun esercito di angeli perché Cristo doveva patire per redimere il mondo quindi come potenza assoluta lo poteva fare peraltro non può darsi che faccia cose all'infuori di quelle che ha pre-conosciuto e che ha pre-ordinato di fare l'abbiamo ripetuto tante volte il cambiamento io pre-ordino un progetto poi sono costretto a cambiare ma cambio per quale ragione perché il mio intelletto non ha avuto la capacità di valutare con concretezza con precisione le componenti e quindi sono costretto il governo c'è da ridere ogni momento cambia c'è una legge poi ha cambiato l'articolo 15 poi il 16 poi il comma poi è un continuo cambiamento io una volta che l'abbiamo ordinato visto che è regolato da una prescienza da una conoscenza e quindi dalla volontà da una volontà che è legata alla volontà e alla verità e la verità ecco che non può poi cambiare pur avendo il potere di cambiare quindi stiamo dicendo che può cambiare in una prospettiva di potenza assoluta ma in quel particolare contesto la volontà è già stata definita da Dio non da altro e quindi non può cambiare andiamo avanti Dio non può fare se non quello che deve fare è quello che è giusto che sia fatto ma Dio non deve fare quello che non fa non è giusto che faccia quello che non fa dunque Dio non può fare se non quello che fa è evidente che Dio non può fare se non quello che fa in un determinato contesto andiamo a vedere comunque il pensiero di Tommaso Dio non deve niente a nessuno tranne che a se stesso qui non vuol dire che tutto quello che fa lo fa per se stesso bisogna intendere non deve niente a nessuno se non per quello che la sua presenza la sua volontà la verità che incarna gli ha stabilito di fare ecco perciò quando si dice che Dio non può fare se non quello che deve non si vuol dire altro che Dio non può fare se non quello che è giusto e conveniente per lui secondo il progetto Dio non può fare se non quello che è conveniente e giusto possiamo però intenderlo in due maniere vediamo le conveniente e giusto dovrebbero essere considerati in strettissimo rapporto con la parola è in modo da restringere la frase e significare soltanto le cose attuali e in tal modo l'affermazione è falsa perché ne viene fuori questo senso Dio non può fare se non quello che nel momento attuale è conveniente e giusto stiamo non so se è chiaro è sbagliato pensare che Dio non possa fare se non quello che nel momento attuale è conveniente e giusto cioè riportare tutto il presente tutta l'azione divina è finalizzata a un bene ultimo quindi non si può mai valutare ciò che è conveniente e giusto in un rapporto di presente mentre può essere valido questo pensiero questo pensiero quando utilizziamo un presente indeterminato Dio non può fare solo quello che se egli lo facesse sarebbe conveniente e giusto allora allora a questo punto noi facciamo riferimento a un presente specifico ma a un presente indeterminato in latino diremmo un presente storico o un presente ignomico Dio non può fare se non quello che sarebbe conveniente e giusto se egli lo facesse cioè tutto quello che Dio fa non può essere che conveniente e giusto ma conveniente e giusto rispetto a che cosa dove è finito rispetto a che cosa rispetto al progetto l'avevo letto prima abbiate pazienza e non è facile questa cosa anche spiegarla dunque ecco no ma dove l'ho letto adesso è finito ah ecco punto qui Dio non deve niente a nessuno in questo senso quindi dice Dio non può fare se non quello che sarebbe conveniente e giusto se egli lo facesse lui non è tenuto a farlo perché non deve niente a nessuno ma se lo facesse non c'è dubbio che quello che fa è conveniente e giusto altrimenti che razza di verità e di giustizia incarnerebbe Dio però a me pare che queste cose siano abbastanza evidenti senza arzigogolarci sopra 3 Dio non può fare se non ciò che è buono è conveniente per le cose create ora per le cose fatte da Dio non è bene né conveniente che siano diversamente da come sono vediamo la risposta sebbene l'ordine attuale delle cose sia limitato a quelle ora esistenti tuttavia la sapienza e la potenza di Dio non si limitano a tale ordine Dio tuttavia potrebbe fare altre cose fissare ad esso un altro ordinamento l'abbiamo detto può esserci un altro mondo possono esserci altri rapporti quindi non può essere assolutamente il pensiero di Dio e la sua potenza legata a un progetto ripeto per l'ennesima volta per Tommaso che vede il tutto nella prospettiva aristotelica questo rimane nel regno del possibile la possibilità cioè di altri infiniti mondi noi con la nostra scienza attuale potremmo addirittura ipotizzare ma non solo così come un possibile concettuale una realtà alternativa mondi alternativi addirittura un numero infinito di mondi alternativi che Dio ha già portato all'essere e quindi che Dio può mettere in atto senza che la sua volontà sia vincolata necessariamente ad un unico progetto se non è chiaro ponetemi delle domande specifiche perché a volte mi perdo anch'io non è che sia così semplice vi detto sembra che Dio non possa fare migliori le cose che fa vediamo subito Paolo Efesini Dio può fare tutto ben al di là di quel che noi domandiamo o pensiamo c'è una doppia montata delle cose una appartiene alla loro essenza come essere ragionevole rientra nell'essenza dell'uomo Dio non può fare una cosa migliore di come essa è e sebbene possa fare un'altra migliore come pure non può fare maggiore il numero quattro perché se fosse maggiore non sarebbe più il numero quattro ma un altro numero quindi l'uomo non può essere concepito che in questo modo almeno per quanto riguarda la sua essenza che è un ente ragionevole un animale ragionevole l'altra bontà è strane all'essenza delle cose come per l'uomo è un bene non essenziale essere virtuoso essere sapiente e secondo questa specie di bontà Dio può rendere migliori le cose che gli ha fatto ma anche da un punto di vista fisico ci può essere chi vede chi non vede che riesce a ambulare o chi non riesce a neambulare Dio avrebbe potuto fare qualcosa di meglio ma non nell'essenza l'essenza è già al massimo bellissimo questo esempio la geometria e la matematica sempre ci vengono in aiuto voglio fare più perfetto il numero 4 come faccio a fare più perfetto c'è giù un unità ma non è più il numero 4 è il numero 5 allora detto questo e letto il set contra riprendiamo tutto quello che Dio fa lo fa con somma potenza e sapienza dunque Dio non può fare una cosa migliore di come la fa andiamo alla risposta quando si dice che Dio può fare una cosa meglio attenzione questo meglio poi si dice che la grammatica non è importante meglio di come l'ha fatta se la parola meglio si prende come un nome quando si dice che Dio può fare una cosa meglio quindi partorire un meglio e meglio diventa nome l'espressione vera perché Dio di qualsiasi cosa può fare una migliore abbiamo detto prima abbiamo detto abbiamo parlato dell'uomo l'uomo ragionevole ha questa capacità non è semplicemente un animale ma un animale razionale Dio avrebbe potuto creare qualcosa di meglio naturalmente non più uomo certo ma come uomo in quell'essenza non ci può essere nulla di meglio quindi meglio come sostantivo sì meglio come avverbio no avrebbe potuto creare Dio avrebbe Dio potuto creare l'uomo in modo migliore no perché attraverso la sua sapienza e bontà ha già concepito quello che poteva concepire di meglio in riferimento all'uomo in riferimento alla farfalla in riferimento al baco da seta se invece designi il modo di essere della cosa fatta allora Dio può farla meglio per quel che riguarda elementi accidentali abbiamo detto se bene non lo possa quanto gli elementi essenziali accidentali sì potrebbe invece di raggiungere nella corsa che ne so i 30 km all'ora potrebbe raggiungere i 50 km no potrebbe invece di vedere ad una certa distanza avrebbe potuto vedere una distanza maggiore ma questi non sono elementi essenziali allora uno però si chiede ma perché negli elementi accidentali non ha dato all'uomo degli attributi migliori e superiori e c'è sempre quell'equilibrio generale quella gradualità generale che deve dare un ordine a tutto l'universo altrimenti ci sarebbero degli sbalzi che non rientrerebbero in quell'ordine di perfezione di cui ha già parlato più volte Tommaso andiamo alla seconda argomentazione dunque Agostino così argomenta se Dio avesse potuto e non avesse voluto generare un figlio uguale a sé sarebbe stato invidioso già qui mi lascia un po' se Dio avesse potuto e non avesse voluto chiaramente non ha potuto perché qui abbiamo una generazione interna non c'è una creazione vabbè forse può essere un iperbole questo per la stessa ragione se Dio poteva fare le cose migliori di come le ha fatte e non ha voluto farle è stato invidioso ma il nilidio è tutto estraneo a Dio dunque Dio non ha fatto qui questa è proprio per me un'argomentazione che non sta in piedi perché non ci sono i rapporti noi stiamo rapportando una creatura cioè qualcosa che è stato creato da Dio per quanto bella e perfetta con il figlio di Dio che è Dio stesso e che fa riferimento ad una generazione guardiamo cosa dice eccolo qua ecco il confronto non torna abbiamo degli elementi che non possono rientrare in questa similitudine andiamo al 3 abbiamo già visto il 3 no il 3 si ora come dice Agostino le cose che Dio ha fatto singolarmente considerate sono buone ma prese tutte insieme sono buonissime perché da loro insieme risulta l'ammirabile bellezza dell'universo anche ho parlato più volte di questa cosa buone in sé ma uno dice ma perché non l'ha fatta più buona perché sarebbe stata interrotta all'armonia di tutto l'universo dunque la bellezza dell'universo non può essere fatta migliore da Dio vediamo la risposta l'universo supposte le cose che attualmente lo compongono non può essere migliore che se una sola di tali cose fosse migliorata l'ordine sarebbe turbato adesso io apro una parentesi quando parliamo di evoluzionismo voi sapete che non sono assolutamente in sintonia con l'evoluzionismo anche se c'è qualcuno qui in linea esimi professori che dicono chi non crede nell'evoluzionismo è rimasto al medioevo dimostramelo perché non basta dire l'uomo deriva dalla scimmia no se c'è l'evoluzionismo l'uomo deriva dal moscerino però uno degli scogli maggiori dell'evoluzionismo specialmente là dove ci troviamo già con un organismo ben costituito ben ordinato è che se proprio per evoluzione dovesse modificarsi un organo almeno questo è quello che è stato sempre considerato e valutato dagli scienziati questo cambiamento che in sé per quell'organo stesso potrebbe anche essere un bene scompiglia l'ordine di tutto l'organismo indebolendolo infatti per quel che io ho letto non si è mai verificato un cambiamento in un organismo in riferimento ad un organo che l'abbia reso più forte quindi questo pensiero di Tommaso che per me ha un fondamento non soltanto scientifico ma ontologico è vero che ogni singolo ente potrebbe essere partorito in modo migliore ma metterebbe in crisi l'ordine di tutto l'universo è quell'ordine che viene messo in crisi oggi dall'uomo che non ha saputo rispettare quella natura che Dio gli ha consegnato e ha creato degli squilibri che possono arrivare addirittura all'autodistruzione come bellissimo questo esempio sarebbe alterata la melodia della cetra se una corda fosse tesa più del dovuto potrebbe però Dio fare altre cose o aggiungerne delle altre a quelle già fatte e in tal modo quello sarebbe un universo migliore io preferisco dire Dio avrebbe potuto creare un altro mondo e forse lo ha creato un'altra dimensione e forse lo ha creata ed è questa dimensione possibile o magari reale ottima in se stessa cioè non avrebbe potuto essere migliore di quello che è ma questo non vuol dire che l'altra dimensione sia migliore della nostra entrambe le dimensioni hanno la qualità della perfezione perché Dio non può creare nulla che nell'insieme sia imperfetto è ordinato ma attenzione non perfetto come come una una qualità intrinseca ma perfetto in quell'ordine che deve portare poi alla perfezione questo organismo questo questo mondo che Dio stesso ha creato dobbiamo sempre guardare il fine il fine a cui tende il l'opera di Dio non possiamo fermarci al presente il fine l'obiettivo ultimo andiamo all'ultima definizione che è questa Cristo in quanto uomo è pieno di grazie di verità e dallo Spirito Santo senza misura e quindi non può essere migliore parimente la beatitudine è creata la beatitudine è creata e la contemplazione di Dio in un'altra vita la beata vergi è stata esaltata su tutti i cori degli angeli e perciò non può essere migliore dunque Dio non può fare migliori tutte le cose che fa beh di nuovo il paragone non regge abbiamo situazioni particolari dove rientra di nuovo la componente che è l'infinito e rientra Dio l'umanità di Cristo perché unita alla divinità è la beatitudine creata perché godimento di Dio è la beata vergine Maria perché madre di Dio hanno una certa dignità infinita e questo su loro certamente non si sarebbe voluto fare di meglio e sotto questo aspetto niente può essere creato migliore di essi ma per questa ragione il fatto di non poter creare nulla di meglio di essi non vuol dire che lo stesso ragionamento lo si possa portare su ogni altra creatura su ogni altro ente voluto da Dio grazie a tutti